buongiorno allora pollicione iscrizione campanellina per ricevere gli avvisi e se volete condividere i video mi date veramente una mano lo spezzo in due anche questo perché sennò veramente era lungo però devo chiedere cosa cosa sta succedendo merito allo schifo fatto ieri e al rischio che questo schifo venga continuamente perpetuato e dopo dirò esattamente cosa penso del silenzio della stampa ma non solo della stampa allora ieri molti si sono visti ricariche ridicole ridicole a essere buoni cioè al minimo 40 euro e lì ci ha tenuto a far sapere che nel caso non sia riuscito non sia riuscita a recuperare l'intera decurtazione che doveva essere applicata a febbraio questa va recuperata anche sulle ricariche successive capite quindi magari non ce l'ha fatta recuperare tutto con la ricarica adesso pagate in ritardo e colpirà quella ordinaria del 27 aprile però per voi per alcuni di voi per molti di voi perché è un dato di fatto quella ricarica sarà l'ultima poi bisognerà fare il rinnovo a maggio con lo spettro che si è andando tutto bene ovviamente a metà giugno quando riceverete la prima ricarica di nuovo rinnovo anche questa sia decurtata e con quella dovrete arrivare alla ricarica successiva che a fine luglio che magari anche quella sarà decurtata guardate io non lo sto dicendo tanto per dire perché dal momento in cui è stato bocciato l'eventamento catalfo che avrebbe risolto il problema alla base a oggi il governo ha fatto zero in questo senso zero ora c'è la petizione di fisio ho visto qualcuno di voi l'ha anche già firmata benissimo ma anche fisio ha dormito per un mese ha dormito per un mese perché ragazzi con un governo così come fai a fidarti di un ordine del giorno fatto da simili cialtroni un governo che ha sistematicamente disatteso tutto in merito alla tutela dei poveri delle fasce più deboli tutto un governo che surrettiziamente sta triturando le misure di welfare per i poveri e sottolineo surrettiziamente perché di fatto non lo dicono in modo pubblico anzi in pubblico parlando davanti a quei tromboni leccapiedi dei giornali si vantano parlano di misure di sostegno di aiuto ai poveri e alle famiglie in difficoltà fattualmente fanno lo zero fanno lo zero assoluto per cui i giornali riportano indiscrezioni grandi manovre grandi cose qui grandi cose là mai che ci sia un giornalista che dica in concreto cosa avete fatto qualcosa che sia effettivamente verificabile c'è perché il programma gol è una scatola vuota l'rdc viene sistematicamente vessato da quando c'è urlando in concreto cosa avete fatto nessun giornalista lo chiede per cui vi avviso adesso state attenti io qui devo dare a ragione bosin caro bosin hai perfettamente ragione per i percettori rdc ci sono solo obblighi hanno aumentato in modo assurdo gli obblighi mentre non hanno aumentato i diritti e le tutele e faccio notare e ribadisco ancora la scusa per non applicare la saraceno era che non c'erano soldi ma improvvisamente parole di draghi non mie ci sono i soldi per torino non ho capito in che contesto poi e ci sono ovviamente i soldi per fare muscolari quei soldi li faranno saltare fuori ma per aiutare le famiglie povere no perché ve l'ho detto a questa gente i poveri fanno schifo semplicemente non lo possono dire perché ci fanno brutta figura ricordatevelo quando dovete andare a buttare ricordatevi che come ha fatto notare il nostro bravo fabrizio hanno trovato il tempo per dibattere sulla fine sulla fine occupazione di un branco di parassiti come navigator chi ribadisco e lo chiarisco un'altra volta a scans per farlo capire certi cazzari avevano un contratto a termine e gli è stato prorogato due volte a fronte della totale inutilità della loro presenza della loro presenza all'interno degli centri per l'impiego quando c'erano mentre non hanno trovato 5 minuti per parlare della situazione degli invadi civili questo è il governo dei peggiori e dopo ne parliamo ciao a tutti